Orlando Bolettin, siamo qui davanti al Comune di Padova per rilanciare la questione degli OGM. Di cosa si tratta? Si tratta della presenza degli OGM nel cibo che andiamo a comprare nel supermercato e che però nessuno ci indica che la presenza c'è. Quello che succede è che i mangimi che vengono fatti nel nostro paese sono costituiti per lo più da soia e mais OGM che viene importato. Questo nonostante il nostro paese sia un paese OGM free. Voi avete anche contattato rappresentanti della grande distribuzione della filiera alimentare. Che risposte avete avuto? Noi abbiamo inviato delle richieste di trasparenza e di riconversione delle filiere a una decina di catene di supermercati dei più grossi centri della GDO, della grossa distribuzione. Di questi hanno risposto solo Cadoro, dimostrando di essere interessata e di impegnarci su questa roba qui. Altri non ci hanno ancora risposto. Per questo motivo noi torneremo a insistere davanti ai supermercati a informare i consumatori di come stanno le cose, del fatto che noi abbiamo chiesto trasparenza e che il consumatore ha diritto di sapere cosa mangia, come sono alimentati gli animali di cui consuma le carni e i derivati e che nonostante la richiesta di trasparenza il supermercato non ha a tutt'oggi intenzione o non si è indirizzato per trasparenza e impegnarsi su questa questione.